Ciao a tutti. Il narcisista vive costantemente sensazioni di inferiorità e di impotenza, che poi verranno bilanciate con un senso di grandiosità e di onnipotenza, che comunque risultano essere notevolmente temporane, dato che ha estremamente bisogno di continue conferme e apprezzamenti da parte degli altri. Senza contare del senso di inferiorità, di vergogna e di vulnerabilità interiore che pervadono incessantemente l'esistenza del narciso. Tuttavia il narcisista ha un bisogno assoluto di soffrire e cadere in crisi profonda per poi ristrutturarsi più forte di prima. Il narciso nell'età della giovinezza è alquanto scaltro nel crearsi una maschera e a sottrarsi alle minacce, ma andando avanti con il tempo diventa fragile e instabile, pertanto cadere nel baratro a causa di abbandoni, scarti ed errori di valutazione dà la possibilità al narcisista di ricostruirsi una potente corazza che sarà difficile da scalfire. Non dimenticare che il narciso rimane un vero e proprio esperto nell'arte della manipolazione ed è per questo motivo che non sarà facile smascherarlo sin da subito. Il narcisista è inconsapevolmente prigioniero di se stesso e della sua sofferenza e tutto ciò non gli consente di distaccarsi dai sentimenti come la paura, la vergogna, la necessità e la fragilità. Emozioni queste che ogni persona sana riconosce come naturali, in grado di procurare dolore, ma anche di dare l'occasione per crescere, per maturare, per poi raggiungere grandi gioie. Purtroppo il narciso ha occultato tutto ciò nell'angolo più sperduto della sua identità. Il dolore segreto che il narcisista porta dentro di sé è stato generato nel corso della sua infanzia, laddove possono essere accaduti ben due scenari che hanno rappresentato il trauma e di conseguenza hanno scatenato la ferita narcisistica. Il primo scenario potrebbe far intravedere una madre o un padre che amavano egoisticamente il proprio figlio o la propria figlia, ma soltanto se collimavano perfettamente con il loro volere di genitori. In sintesi, ti accetto e ti voglio bene se sei o se fai ciò che io desidero per te. E questo è il motivo per il quale il narciso ha indossato una solida corazza che non consente di percepire che cosa c'è all'interno. D'altronde non può assolutamente permettersi di comportarsi come un essere umano, poiché quando lo fece in passato venne punito severamente. Il secondo scenario potrebbe far intravedere un contesto familiare dove il rapporto con il genitore di attaccamento all'improvviso si è spezzato in maniera alquanto traumatica, oppure il legame si è rovinato, come ad esempio a causa di una morte, oppure di una separazione, oppure la nascita di una sorella o di un fratello più ben voluto di lui. Pertanto tale circostanza ha compromesso irrecuperabilmente la credibilità del genitore, avendo così prova di quanto sia insidiosa la vicinanza delle persone. Attenzione, desidero ribadire che nel disturbo di personalità narcisistica è stato dimostrato, mediante alcune ricerche, che esiste anche una componente genetica. Anche in questo contesto si può comprendere quanto può essere complessa una relazione con un soggetto con il disturbo di matrice narcisistica. Da ricordare che il narciso è una persona che pensa solo a se stesso e gioca sempre a proprio vantaggio e se rimane in una relazione significa che ha un proprio tornaconto. Perciò è di estrema importanza che tu sia consapevole che il narcisista non potrà mai amarti poiché è assolutamente incapace di provare sentimenti per qualcuno. Tu sei soltanto un mezzo per soddisfare i suoi bisogni e sarà pronta a scartarti in maniera perversa e feroce senza nemmeno un preavviso. In realtà tu l'hai semplicemente idealizzato e ti dimostro in quale modo l'hai fatto. Il processo di idealizzazione viene definito in ben tre gradi. Il primo grado è la fantasia, ovvero un contesto inesistente nel quale esiste il soggetto che viene rappresentato in maniera alterata a causa di criteri di difesa, l'appagamento di un bisogno inconscio. Il secondo grado è la realtà, ossia quella esterna, obiettiva, contraddistinta dalla dimensione esterna. Il terzo grado è quello dell'adattamento che tra i due precedenti consente progressivamente di riconoscere tra vissuti personali e sensazioni esterne e di muoversi adeguatamente in un insieme di condizioni sociali, culturali e morali. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.